Ragazzi, ben ritrovati dal vostro Kirk95X, oggi in compagnia di Alex, Federico, Subartek e Xaurox, apriamo i 24 pack del nuovissimo evento Apex. 3, 2, 1, primo pack. Un bel crabber. Figo. Questo è fighissimo. Tutto è epico, mamma mia. Sì, tutto è epico, tutto è epico. Secondo pack. Se apri tutti i copri dovrai trovare tutte le scuole. Eh, vediamo. Eh beh, sì, ovviamente. Oh, con le catane dietro. Due catane e due vazikashi dietro, ragazzi. Allora? Equipaggiamolo subito. Ambrali. Oh, due leggendari. Kink non se ne frega niente. Ecco la Xin di Crypto. La skin di Crypto. Lo scolaretto. Ecco la skin di Loba. Sempre bello troione il nostro Loba. Mi dissocio. Perché scrivi in chat? Perché Subartek è figo e scrive in chat, non è come te. Ok, roba anonima stavolta. Un altro pack. Sì, roba abbastanza nomina, se ne frega. Altro pack. Red Bull Tattica. Bellissima questa. Le mote di Valkyrie. Carino. Oh, leggendario. Cosa sarà mai? Il badge di... Che caula? Di Revenant. Non lo so. Ehi, non ho fatto l'interno. Altro pack. Leggendario, leggendario. Skin Bangalore, skin Bangalore. Skin Valkyrie. Guardatela, ragazzi. Oh, questa è bella così. Non mi piace. Insomma, preferisco un po' la prova di Titan. Il Valkyrie non è tanto bello. Un altro skin di Valkyrie. Vai. E questo cos'è? Sentinelle, sentinelle. Sentinelle, leggendario. Bello, però. Mai usato un cecchino in sto gioco, però bello. E non mi piacciono i cecchini, ragazzi. Che dividori. Pathfinder. Oh, un altro skin della Troia. Una roba mi dissocio. Mi dissocio. Due skin di roba. Ah, buon mio. Ma sto cazzo di Heirloam quando esce, raga? Alla fine. Alla fine mi ti ho troppo qualche, se non sbaglio. No. Oh, non è che a te, mi ti ho detto. Basta che tipo te apri 24 pacchetti, dopo vai nello shopport. E per gli Heirloam. Ah, ok. Ora, 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 aspetta. Bene, non lo scherzo. Non lo scherzo, non lo scherzo, eh. Sì, minchia, bellissima che tu la skin della foto, eh. Oh, la skin di Mazinga Z. E in un attimo. Guarda, tu sei bella. Minchia, sei bella. Molto stile Mazinga. Oh, la skin di Vibratar, però, versione pilota di Titanfall. Di Titanfall. Carina sta skin. Molto carina. La equipaggio subito. Grazie per il follow Procione. Un'altra leggendaria, 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 leggendaria. Cosa? Bellissima sta skin di Bangalore, bellissima. Da pilota. Subito equipaggiato. Un'altra leggenda, leggendaria, leggendaria. Skin di... G-Scout. Che cazzo la musa ma il G-Scout. Stoge, fuck. Il classificato di Samuroso. Sì, sì, è forte, però non mi ispira tanto. E' questo? Oh, si coltape. Bella, bella. Cos'è skin di lì, ma io. Sì. Bon, bon, bon. Tre epiche. Vabbè, roba normale. Niente di che. Skin del radius. No, 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 no me la dà. Marco e Han, no. No, non posso terminare la scuola che si sono. Cristo. Leggendario, leggendario. Oh, wow, stico, bello. Già, io. L'ultimo, abbiamo l'ultimo pack. Oh, la madonna. Erlon. Ecco l'Erlon, ragazzi. Ecco l'Erlon di Revenant. Oh mio Dio. Con la falce della morte. Cioè, ma equipaggiamogli subito tutto a questo Cristiano. Anche la frase. Non credo, tu voglia vedere i miei attivi da ventino. Minchia, picciotti. Mamma mia, trovate le mie di Revenant. Minchia, picciotti. Oh, non c'ho... Quanto è speso? Un botto? Cioè, avevo 17.000 cose. Cioè, più un cazzo. A me sta diluviando pesantemente. Un barrileano non ho trovato nulla, ho già guardato. Beh, giochiamo con questo ora. Bellissima, con questa skin da pilota. Bene. Metti con le random 10, quello che è legionario random. No. Non c'è questo. Beh, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. Ci becchiamo al prossimo video. Ricordatevi di seguirmi su tutti i miei social. Instagram, YouTube, TikTok e naturalmente Twitch. Grazie, ragazzi. Alla prossima. Ciao.